E' stata avviata la verifica nel governo regionale per affrontare la difficile fase economica attraverso un rilancio dell'azione amministrativa, affidando al presidente De Filippo il compito di intraprendere questo percorso. Il tavolo dei segretari regionali delle forze di centrosinistra che sostengono il governo regionale ha fatto il punto sullo stato dell'azione amministrativa, ma anche delle relazioni tra le forze politiche della maggioranza e dei rapporti politica-società. Con l'apertura di una nuova fase che tenga in primo piano occupazione, ambiente, risorse e welfare. Il centrosinistra unitariamente ha espresso piena fiducia a De Filippo, conferendogli mandato a intraprendere questo percorso in tempi che non confliggano con l'attività istituzionale, per affrontare speditamente l'approvazione della finanziaria regionale. Queste attività dovranno procedere in parallelo con la verifica politico-programmatica finalizzata al rilancio dell'azione amministrativa, che partirà dalla valorizzazione delle esperienze positive che l'alleanza ha saputo produrre.